Al via questa mattina alla Spezia i lavori di demolizione e ricostruzione delle due palazzine di via Bologna. Due edifici che erano stati evacuati rispettivamente nel 2015 e nel 2019 per problemi statici e strutturali. Ci sono tante famiglie fuori da queste abitazioni che sono state ricollocate ed è un intervento importante sia a livello di rigenerazione urbana e quindi una risposta al quartiere ma anche di esigenze abitative. I lavori che sono cominciati questa mattina termineranno nel dicembre del 2023. Ci eravamo lasciati a fine maggio con questo impegno. I nostri inquilini ex di via Bologna sono già stati avvisati e informati. Entro il prossimo mese di ottobre saranno contattati dai nostri uffici per condividere con loro la scelta e tutte le attività che dovranno essere programmate per riconsegnare loro gli alloggi in funzione delle esigenze attuali che ci rappresenteranno. Il progetto si inserisce in un più ampio intervento di Regione Liguria per l'efficientamento energetico di tutto il patrimonio residenziale pubblico del territorio Ligure. Dal 2015 abbiamo voluto dare un cambiamento radicale alle politiche abitative con interventi strutturali direi anche coraggiosi. Qui nella provincia di Spezia andremo a fare investimenti per oltre 15 milioni di euro, nel caso specifico sono oltre 8 milioni di euro di investimento. Demolire e ricostruire per dare dignità agli alloggi dei nostri inquilini e per riqualificare in maniera importante un territorio che per tanti anni non ha visto interventi di questa natura e che alla fine ne necessita. Le famiglie che abitavano in questi due edifici potranno rientrare in abitazioni più moderne, più efficienti e più confortevoli. Una riqualificazione profonda che comporterà oltre a un miglioramento generale della qualità dell'edificio anche la possibilità di un importante risparmio energetico. Con questo intervento le bollette dei nuovi inquilini saranno inferiori di circa il 60-70% rispetto a quanto pagavano adesso. Grande gioia e grande emozione da parte dei residenti che aspettavano questo giorno da veramente lungo tempo. Sì, aspettavamo da molto tempo e ci sembra un sogno. Vorremmo ritornare qua anche per i nostri ricordi, più che altro anche per i nostri vicini. Era un gruppo meraviglioso. Familiare. E non vediamo l'ora di tornarci.